Siamo in presenza del maestro insegnato di questa sera del Premio Zeus. Come si chiama e da dove viene? Mi chiamo Carolina Ardini e io vengo da Francia. Io sono il padre. Ci parli della sua arte, la sua arte? Allora, io volevo creare il rapporto che c'è tra gli altri vivi e il medio che gli environi. E io creare, ci sono le formi, una cura, una attitudine, un gesto. E io faccio le foto, poi ho lavorato la composizione a frattato di queste foto. Io ho lavorato molto la composizione e una volta che ho messo in page la persona, quindi, io ho provato di mettere sotto questo bambino, cioè vedi quanto ho messo in questo libro. Io soую. Grazie, buona sera. Buona sera. Io sono sempre contente di venire questa by lunghe, perché ogni volta che mi hanno dato un premio, io continuo con ancora più più molto punch per creare e per peire. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.